già stamattina sono andato ma hanno sbagliato allora l'ho fatto rifare questo qua hai stampato quella foto di Liliana bellissimo no con quelle braccia lei volava sempre stai chiudendo gli occhi di questi 32 anni insieme qual è l'immagine più forte che ti rimane mi resterà sempre tanta tanta gioia sempre bene questa comincerà la vita se tu dovessi raccontare il vostro rapporto in due parole com'era come lo racconteresti con degli aggettivi non lo so non ho parole di questo tu hai detto che Liliana ti completava sono confuso adesso scusami mi sta girando alla testa mi sta andando sulla pressione in una maniera spaventosa io non ho mai avuto problemi di pressione ieri sera avevo quasi 200 una cosa sebastiano che significato hanno questi fiori che hai scelto guarda i nostri fiori qualsiasi cosa che era la nostra festa mi lasciarvi qua e là il bouquet il bouquet era sempre presente amava i fiori hai posato anche un cappello quello rosso no sulla quella il cappellino c'è anche la maglietta di quando andavamo in bicicletta ho portato la maglietta ho portato il cappellino piccole cose che ti direbbe lì adesso per farti in forza grazie